Come è organizzato l'evento e qual è il percorso? Beh, questa mattina la 22esima edizione, 15 chilometri da Controguerra verso il comune di Torano Nuovo in cui vede la partecipazione di moltissimi atleti. Noi come provincia di Teramo a Favecera ospitare questa manifestazione da 21 anni in cui abbina territorio, pacchetto turismo ed atletica. Infatti abbiamo, ci dicono gli organizzatori, che abbiamo 900 persone già ospitati il sabato e il sabato pomeriggio a visitare il territorio. L'unità di quest'anno assoluta è la visita della città di Teramo con tutta la parte monumentale e artistica di questa città perché spesso non viene conosciuta dagli atleti. Quindi ci tenevamo quest'anno a farli venire qui alla città di Teramo con la visita guidata. In che modo la provincia di Teramo ha contribuito alla realizzazione di questa manifestazione? Il ruolo della provincia è quello di stimolare gli enti associativi ad animare il territorio. Il ruolo che abbiamo avuto è quello di animare, quindi stimolare l'organizzazione affinché animarsi il territorio e valorizzarsi il territorio come abbiamo fatto quest'anno con la visita della città di Teramo da una parte e la visita della forza di Civitella dall'altra parte. Quindi le 800 persone che verranno sul territorio rimarranno ad apprezzare le caratteristiche culturali della nostra realtà territoriale. Quindi siamo andati a questo ruolo di stimolare gli enti associativi affinché organizzino gli eventi su questi territori. Chi sono i top runner che partecipano alla gara? Anche quest'anno avremo un parterre internazionale di top runner che caratterizza un po' la corsa di San Martino. Questa ventunesima edizione vedrà la partecipazione di quattro atleti keniani. Dal punto di vista maschile abbiamo Josh Kocic-Pruto che è un atleta che in questi ultimi mesi ha registrato tempi eccezionali, 1.02 a Torino nel 2017, poi abbiamo Kir Kir e a contendere il podio maschile ci saranno tre atleti marocchini, Kaburi e Sin che è arrivato secondo l'anno scorso a Controguerra, Ionest Zituni che è un atleta marocchino che ha vinto domenica scorsa la mezza Maratona in Ancona e Ichan Buffars che è stato vincitore due anni fa a Controguerra. Poi atleti italiani di spicco tra cui Alberico Di Cecco, Antonio Farasca Zamponi, Francesco Raia saranno quelli che si contenderanno le prime posizioni. Dal punto di vista femminile invece abbiamo due atleti keniane, una si chiama Geruto Lagat e Celagat Wakabu, sono le atleti keniane più forti forse in questo momento sul panorama internazionale e la marocchina Gianetta Nane che è stata vincitrice a Controguerra nel 2013. Dal punto di vista femminile invece degli italiani abbiamo Marcella Mancini e probabile anche la partecipazione di Teresa Montrone.